Il tema col titolo che abbiamo voluto dare a questo blog, Tutti in piazza, cioè le voci di piazza, le voci di bar, le voci che ognuno di noi tutti i giorni ascolta, una frase ricorrente, ahimè, quotidiana o anche sentita più volte al giorno, è quella Mamma mia, è tutto fermo! O in alcuni casi, più disperati forse, beddamage, è tutto fermo! Questa è una frase che io sento quotidianamente e che credo tutti noi sentiamo quotidianamente. Ed è una frase nella sua ampiezza, secondo me, di grande drammaticità. È tutto fermo? Beh, cos'è tutto fermo? Ce ne sarebbe da discutere. Io oggi mi permetto di sottolineare un aspetto che, secondo me, è maltrattato, nel senso che non è trattato male, non è proprio trattato dal network dei media ufficiali. Questa regione, questa nostra terra, aveva per la seconda volta una chance, che era quella dell'utilizzo dei fondi strutturali, dei fondi, cosiddetti fondi europei, per capire, per usare un linguaggio comune a tutti. Ci siamo fatti passare, e non abbiamo utilizzato assolutamente in modo degno, la prima tranche 2000-2006, e ricordiamo che nazioni come l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo si sono rifatte, rifatte nel vero senso della parola, chiedendo i fondi che la Sicilia e il milione d'Italia non hanno speso. Cioè queste nazioni avevano speso i fondi a loro destinati, avendo noi tornati indietro per non utilizzo o cattivo utilizzo ingenti somme, sono state recuperate e reinvestite in altri paesi che li hanno utilizzate. 2007-2013, è l'ultima chance, perché poi l'Europa non terrà più obiettivo 1 il nostro meridione d'Italia, ma la quasi totalità dei fondi, per non dire tutti, si sposteranno sull'est europeo, dove già innumerevoli società di consulenza, di progettazione, si sono già impientati da due anni per essere pronti. Nessuno parla di come una regione come la nostra, con questa tranche 2007-2013, e ricordiamo siamo già nel 2011, si sarebbe, e purtroppo è necessario usare il condizionale e il passato, perché quello che è andato è andato, si sarebbe potuta rifare nuova. Qua parliamo di, non i progettini per finanziare la casa famiglia, l'agriturismo dell'amico, del conoscente, qua parliamo di infrastrutture, la nostra regione non conosce un sistema viario degno, non conosce un sistema portuale degno, non conosce un sistema ferroviario, ancora siamo a mono binario, non conosce infrastrutture adatte alla recezione, recettività del pubblico. Con questi fondi, parliamo di milioni e milioni, di miliardi di euro, avremmo potuto rimettere a nuovo la nostra regione. Questi fondi, perché non sono stati spesi? Come i residui rimasti saranno spesi? Perché non c'è un'azione di governo precisa su questo? Perché il tema del dibattito oggi è essenzialmente legato alla stabilizzazione di altri 25 mila, 2 mila, 3 mila precari? Perché non c'è un dibattito mediatico serio? Anche una pressione dei media sul governo, qualunque esso sia, perché questi fondi vengano impiegati? Questo rimane una domanda senza risposta e però argomenta la frase che tutti i giorni oggi noi sentiamo, è tutto fermo.